Il circuito ciclistico Marconi nel quartiere della Trave è un impianto sportivo. È questa la sua natura e con specifiche caratteristiche. È recintato per impedire agli animali di attraversare la pista e con precisi tornelli d'ingresso per regolamentare gli accessi. Certo lo spazio aperto, il verde che ne fa parte, la necessità di aree dove effettuare attività motoria all'aperto, ne hanno fatto nel tempo un luogo frequentato da diverse tipologie di persone, ma il circuito è stato concepito e realizzato con caratteristiche mirate ai ciclisti. Questa sottolineatura è doverosa alla luce di alcuni episodi che si sono recentemente verificati e che ci sono stati segnalati e che purtroppo hanno causato alcuni spiacevoli infortuni tra pedoni e ciclisti, in particolare con i più piccoli ciclisti appartenenti alla società Alma che usufruisce di orari e giorni a lei dedicati in esclusiva. L'assessorato allo sport del comune di Fano lo scorso anno, recepito il potenziale pericolo di questa commistione, ha deciso di incrociare i sensi di percorrenza. Ciclisti da una parte, podisti dall'altra, ma questo non è bastato. Purtroppo l'inosservanza da parte di alcuni delle regole, molto chiaramente esposte nei cartelli messi agli ingressi proprio per informare bene dell'utilizzo dell'impianto, infatti ha causato alcuni infortuni ai piccoli ciclisti. Gli episodi purtroppo sono stati svariati da persone che attraversano senza guardare quelle cuffiette. È successo un episodio che proprio un bambino si è fatto male e noi come città chiediamo soltanto di rispettare il regolamento e principalmente guardare come se fossimo in strada nell'attraversamento della pista e tutto. Bisogna tenere conto dunque che il circuito ciclistico Marconi non è i passeggi o il lungomare della Sassonia o la ciclo pedonale Fano Pesaro dove cuffiette alle orecchie si decide di fare due passi in Santa Pace. In un circuito ciclistico dove ci sono una cinquantina di ragazzi che si allenano e che in alcuni punti sfrecciano anche a 40 chilometri all'ora, le cose cambiano e di molto. Bisogna fare attenzione a dove si cammina e come si cammina. A rischio c'è la propria e l'altrui incolumità. Noi abbiamo tre giorni alla settimana nella quale i ragazzi vengono qui ad allenarsi e sono le categorie più piccole. Questa struttura qui è una struttura che ha cavalcato i tempi perché purtroppo lo stadio del ciclismo è la strada ma nel caso dei giovanissimi, dei bambini, una struttura protetta è fondamentale altrimenti i bambini non potrebbero avvicinarsi a questa affascinante disciplina. L'appello dunque è al buon senso e alla pacifica e civile convivenza nel rispetto chiaramente delle regole. Il martedì, il giovedì e il sabato pomeriggio a partire dalle 4 e mezza in poi iniziano i gruppi fino alle 19 e 30. Estrema attenzione negli attraversamenti.